Ciao ragazzi e ragazze, questo libro oggi, terzo video dell'edizione numero 3 in realtà, perché ne ho fatti anche altri prima, di Stop Wanting, Start Reading, forse il libro più bello che ho letto quest'estate, l'ho detto anche di Building a Second Brain, però questo è bello sotto altri aspetti. Ok, Born to Run di Christopher McDougall, che in realtà c'è anche in italiano e si chiama sempre Born to Run, mi sembra la storia della corsa più epica o più lunga del mondo, non mi ricordo, è un libro fenomenale, che mi ha consigliato qualcuno su LinkedIn, non mi ricordo chi, grazie chiunque tu sia, Un libro che ha sicuramente aiutato, mi ha sicuramente aiutato a distruggere la mia idiosincrasia per la corsa. Il libro in questione è un romanzo, o meglio, è romanzato di una storia vera, scusate, che parla di questo giornalista che va a cercare il popolo che corre di più e corre meglio come correvano i nostri antenati in Messico, si chiamano Tara Omara. Il libro, che non voglio spoilerare niente, è tutta una ricerca che parte dalla grande domanda perché mi fanno male i piedi quando corro. È un libro che chiunque corra dovrebbe leggere, è un libro che anche chi non corre forse dovrebbe leggere per cominciare a capire come mai certe cose della corsa, chi corre le percepisce in un certo modo. Ecco, è una grande supercazzola, però chi corre sa cosa intendo. C'è una parte che mi è piaciuta particolarmente, che adesso cercherò di leggervi, che l'avevo anche trovata in italiano, ma devo trovare adesso, eccola qua, 111, ci avevo fatto un orecchio, dove questo Tara Omara dice, lezione 2, pensa facile, leggero, smooth, quindi morbido e veloce. Cominci con facile perché se l'unica cosa che hai comunque non è male. Poi lavora sul leggero, rendilo senza sforzo, come se tu non ti interessasse niente quanto è alta la collina o quanto lontano devi andare. Quando ti sei allenato sul lungo, che ti dimentichi che ti stai allenando, lavora su morbido. Non devi preoccuparti dell'ultimo, perché quando arrivi ad avere quei tre, sarai veloce. Questo è quello che mi ricorda un'altra frase di un libro che ho letto recentemente, che se tu ti alleni tanto, poi the score will take care of herself, cioè chi mette tutto dentro le partite di basket, perché questo poi era un esempio di basket o football o baseball, non lo so, una roba americana, the score will take care of herself. Alla fine i risultati sul campo si vedranno. E questo certo non può essere detto di qualunque cosa nella vita, però se non altro di come una metodologia può veramente aiutarci a ottenere dei risultati, beh questo sì. Born to Run è un bestseller nazionale, è un must read per chiunque pratichi sport e forse anche chiunque non abbia coraggio di avvicinarsi allo sport, perché forse questo è uno dei pochi libri che demistifica tantissimo e riesce veramente a interessare tanto. Parla di avventure che sembrano inventate, io ho dovuto googlare per vedere se queste persone erano reali, e sì, sono reali. Spero che vi possa interessare e se lo leggete fatemi sapere. Se tu che me l'hai consigliato e mi stai guardando, grazie. Stop whining. Stop whining. Grazie.